via porco ma no è scuro all'applicio barco niente è troppo scuro come al solito qua niente affatto Fabio, compili compito sempre se vedete un cavolo mio caro, se farò un po' di cavano funziona vediamo che avevamo qua questa è una serie via deve rompere i coglioni questi qua aspettavano da arrivare al punto dell'inferno con un pochino dei piedi